Ciao, ciao a tutti! Oggi ho deciso di fare un video in italiano, certamente per ringraziare Daniel perché lui mi ha fatto un video in inglese spiegando che io sono riuscito a motivarle a studiare le lingue straniere. Allora io penso che è la cosa la più bella che le persone di YouTube mi hanno detto perché il mio obiettivo certamente su questo canale era di motivare le persone anche di aiutarvi e anche di condividere la conoscenza di tutte le lingue perché mi piace da pazzi, da morire come fare un scambio con gli italiani, infatti è un scambio con i giapponesi o le persone di Corea. Ho fatto molte cose così. Allora volevo quindi ringraziare davvero, mi fa davvero piacere di vedere i video dove tu stai spiegando come hai fatto per imparare l'inglese, che hai imparato l'inglese guardando i film. Io penso che è un modo di fare molto divertente. Io ho fatto la stessa cosa, avevo seguito il corso nella scuola e avevo anche un pochino studiato, ma per me l'inglese non era davvero una lingua difficile, per questo ho ascoltato molte cose e soprattutto ho guardato Prison Break e le altre cose sempre in inglese perché non mi piace per niente guardare in francese perché non è così naturale quando stai guardando i film. devi guardare in inglese perché è meglio. Io penso questo. Magari non pensi la stessa cosa ma tutti sono liberi di pensare quello che vogliono pensare. Io sto sempre d'accordo con questo. Allora, cosa volevo dire? Sì, la motivazione è davvero qualcosa di molto importante perché io ho visto molte persone ispirarmi sul YouTube per imparare il giapponese perché stavo imparando il giapponese e alla fine di tre mesi io non potevo parlare nessuna parola. Io potevo parlare alcune parole ma non potevo parlare per comunicare. Mi sono detto come mai non posso, dopo tre mesi, non posso comunicare le cose molto di bassi. di bassi non potevo parlare. Mi sono domandato come mai e mi sono reso conto che dobbiamo imparare di più perché il giapponese è davvero molto diverso. Per questo dobbiamo leggere e studiare, ascoltare, fare le cose più o meno tre anni o quattro anni penso. Penso che io dovrò anche imparare l'arabo per quattro anni per avere un livello abbastanza bene. Allora, quindi oggi io sono andato nel negozio per comprare i libri in italiano e ho comprato due libri. Non so se voi lo avete letto, letti. Questo libro, io ho visto il film, il film era abbastanza bene e volevo leggere questo libro in italiano perché mi sono reso conto che quando io so parlare una lingua devo sempre migliorare questa lingua e penso un modo di fare per migliorare questa lingua e leggere di più. Questo può aiutare moltissimo, 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 soprattutto per il vocaboli. Se tu vorresti sviluppare le parole che conosci devi leggere, leggere moltissimo. Allora, ho comprato questo libro e va benissimo. Io devo leggere questo libro. E anche altro libro, questo ho scelto così solo per leggere. Non sapevo se era molto buono o no. Se voi lo avete letto, per favore scrivimi un messaggio, un commento. Grazie mille. Allora, sono due libri italiani che non ho mai letto, forse, magari, ma la verità è che non ho mai letto un libro in italiano, ho solo preso un metodo per imparare l'italiano. Allora, va bene. Durante questa settimana io volevo leggere, volevo leggere questo libro, ma penso che leggerò questo libro e vi racconterò come il libro. Spero che tutto vada bene. Ok. Allora, se voi volete anche motivare le altre persone ad imparare le lingue straniere e anche le culture straniere e condividere tutto quello che voi conosce... conoscete? Non so. Allora, per favore, fammi una video risposta. Grazie mille e arrivederci.